che razza di mondo ti do io non ho ancora figli ambirei un giorno ad averne quando metto la testa posto però l'idea di lasciargli un mondo così mi deprime un po perché passatemi la parolaccia lasciamo un mondo di merda nel senso che senso ambientalistico parliamo per ora solo di questo è una tragedia se continuiamo così perché c'è una devastazione convente di proporzioni allucinanti quindi cerchiamo tutti 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 piano piano di far sì che questo sia arginato il più possibile altrimenti lasciamo veramente un mondo di m ciao